Vivete con i nostri contributi e le nostre tasse, ricordatevelo, ci state ammazzando. Lei ha paura di fallire? Sì, sì, anche se l'azienda è sana, la paura c'è. Ho paura che ci ritroveremo con una somma importantissima da pagare dopo e di non essere in grado di poter riuscire in questo. Sono le voci di negozianti, baristi, albergatori e altre categorie sempre più in difficoltà per le limitazioni dovute al Covid. Tre settimane fa Veneto Impresi Unite aveva organizzato una manifestazione davanti all'Agenzia delle Entrate di Marghera. Ora si replica davanti alla sede dell'Inps di Venezia, in un fine settimana segnato dal tragico gesto di un imprenditore padovano dello spettacolo che si è tolto la vita nella propria azienda. Qualche giorno fa anche nel Trevigiano invece un dipendente ha fatto lo stesso a scelta perché appunto aveva perso il posto di lavoro in quanto l'azienda non poteva più tenerlo in forza. Purtroppo questa è un'altra realtà, un'altra delle nostre richieste che porteremo più avanti all'Inps quando andremo a parlare con i dirigenti. Sarà proprio quella anche dell'abbattimento del costo del lavoro perché abbiamo bisogno di poter tenere in forza il nostro organico. A manifestare c'è anche una giovane coppia, 30 anni lui, 28 lei, un bambino in carrozzina, gestiscono un bar. Speriamo che lo Stato ci aiuti altrimenti la scelta più ovvia è quella di chiudere. Quanto potete resistere così? Possiamo resistere ancora tre, quattro mesi. In Rio Novo arriva una gondola, la situazione è difficilissima anche per questa categoria. Da fine ottobre ho fatto un giorno di servizio, domenica scorsa, quindi ieri. Come fate andare avanti? Si va avanti con i pochi risparmi dell'estate perché per fortuna, nonostante tutto, qualche temerario è venuto a farci visita e basta. Oltre all'abbattimento del costo del lavoro i manifestanti chiedono una cassa integrazione dignitosa. Parlano tanto dell'80% dello stipendio e in realtà l'80% del minimo salariale. Quello che percepiscono realmente è il 50-60% di quello che percepirebbero lavorando. E a queste condizioni ovviamente con 500-600 euro al mese di bonifico è molto difficile riuscire a pagare anche per loro utenze, affitti. Iniziano ad arrivare le prime minacce di sfratto, iniziano ad arrivare i primi solleciti di pagamento e questa non è vita.